Innamoramento di Orlando, libro secondo, canto sesto, ottava, sedici. Lasciamo Rodamonte in questo mare che dentro vi è condotto a tal partito. Ben presto il tutto vi vorrò contare. E' più oltre all'ottava ventotto. Ma perché abbiate il fatto ben compito di Carlo Mano, mi conviene narrare. Che avea questo passaggio presentito e benché poco ne tema o niente, avea chiamato in corte la sua gente e disse a loro, Signori, io agionova che guerra ci vuol fare il re Agramante, né lo spaventa la dolente prova ove fur morte dei suoi gente tante, né par che dall'impresa lo rimuova l'esempio di suo padre Deagolante che morti fur da noi con vigoria, or ne viene esso a fargli compagnia. Ma pure in ogni forma c'è bisogno guarnir per tutto il regno a buona scorta, perché oltre al vituperi e alla vergogna la trista guarda spesso danno porta. Costor verranno per terra in guascogno, per mare in provenzo, ad acqua morta, e però voglio che con gente armata ogni frontiera sia chiusa e guardata. Poiché ebbe detto, chiama il duca Amone, ed a lui disse, Poiché se n'è andato quel tuo figliol, Ranaldo, figliol d'Amone, che fu sempre un giottone, farai che Monte Alban sia ben guardato. Manda tua gente fuori a ogni cantone e fa che in continenti io sia avvisato ciò che si faccia in terra e in marina per tutta Spagna, dove te confina. Là sono i tuoi figli, ognuno è buon guerriero, sì che non te bisogna una gran gente, seppure aiuto te farà mestiero, io commetta di voi nel tuo parente, qui presente in Pona d'Angelero, che ciasca d'un te sia tanto obbediente come proprio seriano a mia persona, sotto a oltraggio di questa corona. Così Guilmo, il sido del Rosiglione, ed a Riccardo, quel di Perpignano, con tutte le sue gente e le sue persone vengano ad alloggiare a Monte Albano. Di questo non si fece più sermone. L'imperatore, rivolta all'altra mano, disse «Signori, or con più providenza convien guardarsi il mar verso Provenza, però voglio che il duca de Bavera di quella ragione abbia l'impresa, in mare, in terra, tutta la rivera, contra questi africani abbia difesa. Benché sia cosa facile e leggera, vetare a Saracin la prima scesa, la gran fatica fia di indovinare il loco apponto ove ebbino a smontare». Cioè, a salpare, a... no, a salpare, a... a traccare. «Per questo voglio che conseco mena tutti quattro i suoi figli a quel riparo ed oltre a questi il conte dell'Orena, dico Ansuardo il mio paladin caro e brandiamante, la dama serena, che di Ranaldo vi è poco divaro e di ardire forza a questa sua germana, così Dio sempre me la guardi sana. Ed Amerigo, duca di Savoglia e guido il Borgognon, vada in persona e la sua cesta seco si raccoglia Roberto de Asti e Bovo de Dozona. Chi non obbedirà, sia chi si voglia, sarà posto ribello alla corona». «Ora, Naimo mio caro, intendi bene, tenere aperti gli occhi ti conviene e molte parte te convien guardare per non essere accolta allo improvviso, che tu li lasci a terra dismontare, non andrà la cosa più da riso. Tien la vedetta per terra e per mare, fa che di ogni cosa io n'abbia aviso che io starò sempre in campo provveduto a dare ovei bisogni presto aiuto». Fu in cotal forma il consiglio fermato, siccome aveva disposto Carlo Mano, e ciasca d'unda lui tolse con viato e andò il duca Mone a Monte Albano, da molti buon guerrieri accompagnato. E il duca Naimo, per monte, per piano, con pedoni e cavalli in quantità, de gionse in Marsiglia, dentro alla cittade. Trenta miliara avea dei cavalieri e da vinti miliara dei pedoni, e tra loro cominciarono a far pensieri qual terra ciascadunde quei baroni tenesse al suo governo volentieri, né già vi for tra loro contenzioni. Ma ciascun, come a Naimo fu in talento, prese la guarda e rimase contento.